Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la mozione del PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, per costituire un tavolo tecnico consultivo permanente, composto da esperti qualificati e studiosi, sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rimente per la votazione da parte di Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega, l'emendamento inserito all'ultimo punto che impegna il Presidente e la Giunta a fare in modo che il tavolo tecnico riferisca alle commissioni competenti al Consiglio, sugli stati di avanzamento dell'elaborazione, sulle proposte della Toscana, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'impegno ad informare gli enti locali sulle progettazioni che riguardano i loro territori. Approvata anche la mozione presentata dalla Lega, affirma di Elisa Tozzi, che impegna la Giunta a costituire un'unità di coordinamento cabina di regia regionale per istituire un raccordo politico strategico e operativo tra Regione, enti locali, città metropolitane e ministeri di riferimento sul modello di quanto previsto a livello nazionale. Noi abbiamo presentato questa mozione chiedendo che venga costituito presso la Giunta un gruppo di alto profilo anche scientifico in grado di supportare quella che sarà l'azione dell'unità di missione del gruppo di coordinamento che avevamo chiesto essere realizzato già con una mozione dell'8 di giugno. Questo perché il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa, quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori, di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e le priorità per raggiungere questi obiettivi, noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali non soltanto per la ripartenza dopo la pandemia che ha ovviamente acuito le criticità, ma anche per rilanciare un sistema economico, un sistema sociale, quello toscano che sicuramente può avere nella Regione un punto di riferimento importante per la sua ripartenza. Io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente Vordellain. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito e immediatamente a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa Regione dove queste risorse, quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi dovranno essere spese bene, spese in modo efficace affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a termine davvero in modo positivo per tutti quanti noi. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana, la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi, mancava a nostro modo di vedere il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia una volontà di dialogo. Questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica. In Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi, 760 miliardi di euro, oltre la metà andranno restituiti. Quindi sulle spalle nostre, che siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentare il Consiglio regionale, vi è una responsabilità tale da impegnare non noi ma tre generazioni dopo la nostra. Quindi la politica non può, deve utilizzare i tecnici, ci mancherebbe altro, ma non può abdicare ai tecnici. Non può dire nominiamo la cabina di regia, nominiamo il tavolo e che siano altri a decidere come si spendono questi soldi. Noi siamo stati retti per rappresentare i cittadini e noi dobbiamo assumerci la responsabilità di come spenderemo questi soldi. Per dire un giorno ai cittadini che grazie a noi ci sono delle opere o perché i cittadini dicono a noi che in virtù delle nostre scelte sciagurate abbiamo sprecato questi soldi. La responsabilità è politica e per fortuna è stata recepita. Sì, è una discussione importante e a me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti condivisi da soggetti pubblici e privati, ma una coprogettualità che faccia partecipi alla regione toscana delle esigenze dei territori al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale, tempi ed esecuzioni. Quindi una discussione che entra nel merito, ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto. Questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo. Il cambio di governo, il Presidente Draghi, ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole. Noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni e questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi, ma in particolar modo anche l'Italia Viva che con l'operazione politica che ha attuato, inizialmente magari non compresa, oggi rende tutto questo possibile. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti che impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta a promuovere la sottoscrizione della Carta di avviso pubblico da parte di tutti i consiglieri eletti in Regione Toscana e della Giunta regionale attualmente in carica, rendendo pubbliche le adesioni ricevute in specifiche pagine web del sito ufficiale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, oltre che nelle pagine personali biografiche dei singoli assessori e consiglieri. La Carta di avviso pubblico, che un tempo è stata la Carta di Pisa dal luogo in cui è stata sottoscritta, elenca molto chiaramente una serie di pratiche e di azioni che l'amministratore, intesi come tali tutti politici, non dovrebbero tenere o al contrario dovrebbero tenere. Qualcosa che va oltre quelle che sono le leggi, qualcosa che riguarda l'opportunità, anche in un certo senso la trasparenza e il modo con cui l'amministratore si distacca da ciò che amministra per evitare di essere contaminato da degli elementi che potrebbero condizionarne il giudizio e l'operato. È qualcosa insomma di più che chiediamo ai nostri politici e che è giusto sottoscrivere. Una parte del Consiglio l'aveva già sottoscritta, quelli che hanno fatto parte della scorsa legislatura, e io ho chiesto che sottoscrivessero personalmente tutti i consiglieri regionali, perché mai come in questa contingenza c'è bisogno di dare anche un segno concreto alle persone di quello che è il nostro atteggiamento, di quello che è il nostro modo di impostare l'azione. E lo stesso l'ho chiesto alla Giunta e ho chiesto anche che fosse promossa questa carta tra tutti i comuni e le province. Credo che sia il messaggio migliore che si possa mandare insieme al rispetto dei 23 articoli di questa carta. Presentata in conferenza stampa Scandici Open City 2021, l'edizione si prospetta ricca di appuntamenti con oltre 140 eventi organizzati in 30 spazi diversi tra pubblici e privati. Sono 26 le realtà culturali coinvolte che per tre mesi, dal 24 giugno al 26 settembre, trasformeranno la città in un grande palcoscenico con spettacoli di teatro, musica, cinema, danza e circo contemporaneo. Ci saranno anche talk show e incontri di poesia. Io sono davvero estremamente soddisfatto di essere qui e avere insieme in consiglio regionale l'assessora Claudia Sereni per il comune di Scandici e devo dire che si riapre, si riparte, anche se Scandici sulla cultura onestamente non ha mai chiuso. Lo scorso anno fu un'edizione estremamente qualificata, ricca di eventi e assolutamente apprezzata non solo dagli scandiccesi ma da tanti cittadini e cittadine che anche grazie all'utilizzo della tramvia vennero a trascorrere serate di interesse culturale elevato a Scandici. Quest'anno il comune con uno sforzo importante, grazie anche a degli sponsor, in particolare Unicop, che ringrazio anche io per questa disponibilità e questo impegno, riparte con eventi di livello, con un'offerta culturale assolutamente importante e penso e sono assolutamente convinto e certo che nel panorama regionale toscano Open City 2021 Scandici sarà uno degli avvenimenti più gettonati, più frequentati e dall'offerta culturale varia, importante e per ogni gusto e ogni interesse da parte delle cittadine e dei cittadini. Sono convinto che anche quest'anno saranno tante le persone che verranno anche da altri comuni per seguire l'offerta culturale, la proposta dell'estate da parte dell'amministrazione. Quindi davvero un plauso per l'impegno, per lo sforzo e per il protagonismo di Scandici nell'area fiorentina. Scandici Open City 2021 per noi è la dimostrazione che la cultura può mettere in scena tutta la città. È quell'elemento dinamico che è in grado di riaprire luoghi che sono stati chiusi durante questa pandemia per tanti mesi e riportare in scena e al lavoro tantissime realtà culturali che hanno sofferto in questo periodo. Ma è anche l'occasione per i cittadini, non solo scandicesi, di riappropriarsi di questi luoghi e di tornare a vivere in maniera così veramente creativa e sociale la propria vita e la propria città. Sono 140 eventi in 30 location differenti con un investimento per il comune di Scandici di 160 mila euro grazie anche al contributo di Unicop Firenze e di altri piccoli sponsor che hanno poi sostenuto le varie attività. Una rassegna all'insegna ancora della sicurezza e dell'organizzazione grazie a un sito internet che racchiude tutto il programma e a uno strumento tecnologico, il TICA, che permetterà di prenotare e tracciare le presenze in maniera sicura. Allora, la collaborazione di Unicop Firenze ormai è storica, al comune di Scandici facciamo tante cose, abbiamo anche tanti altri progetti che poi l'assessore vi farà conoscere piano piano e quindi ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore. Devo dire che noi non abbiamo mai smesso, neanche durante questo lungo periodo di pandemia, di sostenere i teatri, di sostenere le attività culturali, l'abbiamo sostenuto anche se sono state chiuse perché il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura è uno dei mondi che ha più sofferto il tema della pandemia. Adesso questo bellissimo programma del comune ci dà la possibilità di tornare tutti un po' a vivere. Io credo, l'assessore alla cultura la so meglio di me, quanto sia vitale nella vita di ognuno di noi poter avere occasioni non solo di stare insieme ma di usufruire di uno spettacolo, di un concerto, di un'attività culturale che è quella che ci rende persone e quindi c'è un grande bisogno di questo. Questo programma che è così vasto e così bello sarà un'opportunità importante per tante persone, per tanti ragazzi, per tante famiglie di poter uscire, stare insieme e stare insieme alla cultura. Ecco, quindi noi sosteniamo volentieri questa attività perché, posso dirlo, non ci si nutre solo di cibo ma ci si nutre di tante altre cose, soprattutto di cultura. Quindi insomma per noi è importante, le persone sono persone e non sono consumatori. Grazie.